Attenzione ad acquistare merci contraffatte perché da domani scatteranno multe salate per chi sarà sorpreso a spendere dagli abusivi. Il prefetto Andrea De Martino mette in guardia i cittadini e annuncia linea dura contro il mercato della contraffazione. A partire dal primo dicembre, infatti, scattano le nuove azioni di contrasto al commercio illegale in città, varate nel corso di un incontro con il questore Luigi Merolla e di rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine. Il piano è articolato in più fasi, la prima andrà avanti fino al 10 gennaio e vedrà polizia, carabinieri, vigili urbani e polizia provinciale, anche in borghese, a presidio delle zone dove il mercato del falso è più diffuso. E controlli serrati sono previsti anche per gli acquirenti di marche contraffatte che rischiano una multa fino a 7.000 euro. Su Piazza Garibaldi, dove c'è già una presenza della polizia municipale, attraverso un'attività di supporto a quella nostra assicurata dalle tre forze di polizia, su Via Toledo, nelle forme che già conosciamo, e cioè di una divisione alternanza giornaliera tra le quattro forze di polizia, e soccorso Umberto con interventi saltuari e espletati da personale non in divisa ma in borghese. Occorre far comprendere meglio e maggiormente che anche i cittadini non possono liberamente acquistare merce contraffatta.